Le movenze lente e cadenzate dei due militari intenti nel cerimoniale dell'alza bandiera sotto lo sguardo assorto dei colleghi e della rappresentanza del corpo dei vigili del fuoco fanno da cornice al pensiero degli intervenuti alla cerimonia che è andato subito ai cittadini e alle cittadine che in questi mesi hanno vissuto momenti drammatici per il terremoto. Durante il toccante momento della deposizione della corona al monumento dei caduti del mare la mente di tutti autorità civili e militari presenti è andata a quanti spinti dalla disperazione hanno affidato la loro vita alle sorti del mare. Per tutti la professionalità e il sacrificio del senso del dovere della marina militare è stato il primo porto sicuro a cui affidarsi. Questa mattina alla presenza delle autorità si è celebrata la ricorrenza di Santa Barbara con una cerimonia sobria e toccante cadenzata da momenti salienti come al monumento ai caduti e dalla messa celebrata dal vescovo Trasarti. Quello che mi piace sottolineare è che sotto una divisa ci sono uomini e donne che oltre a fare il loro dovere ci mettono anche tanta umanità e questo è il valore aggiunto di chi presta un servizio per il paese e per le comunità. E allora le istituzioni, un sindaco deve esprimere la propria gratitudine, il proprio ringraziamento per quello che fanno a favore del paese. Il mare, elemento di vita e di cultura per Fano ma anche di raccoglimento per chi fa della vita in mare il proprio lavoro. In questo giorno particolare un pensiero va doverosamente rivolto a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere. E' un pensiero ulteriore, vorrei dedicarlo a tutti i colleghi che anche oggi si trovano impegnati in mare a fronteggiare l'emergenza migratoria in Canale di Sicilia. Santa Barbara è una santa molto popolare grazie al numero e all'importanza dei suoi patronati fra cui si ricordano in particolare quello sui vigili del fuoco e sulle professioni di artificieri, artiglieri e geni e minatori. A cui si affidano i momenti in cui l'imponderabile gioca una sostanziale differenza come in emergenze improvvise tra la vita e la tragedia. E' una giornata in cui si ringrazia Santa Barbara che con la sua attenzione probabilmente dall'alto guarda i nostri compiti e cerca di darci una mano nel risolverli. Spesso e volentieri nell'emergenza ci sono per definizione come emergenza situazioni che non sono facilmente calcolabili, facilmente prevedibili. Quindi in quella situazione un aiuto dall'alto anche per noi è sicuramente importante. E oggi ringraziamo Santa Barbara e ci uniamo insieme per un momento di riflessione anche su quello che è la nostra grande famiglia, i vigili del fuoco. Noi ci vediamo un po' come una grande famiglia. Noi ci vediamo un po' come una grande famiglia.